buongiorno ciao oggi per il 25 aprile voglio raccontarvi la storia di un uomo che quasi certamente non conoscete il suo nome era giorgio marincola ma ashiro hassan era il nome della mamma e subito dopo aver dato alla luce una bambina isabella il padre pensò bene di lasciarla per tornare in italia portandosi via i figli i figli di pelle nera che va detto lui aveva regolarmente riconosciuto non sapeva ancora che il fascismo di lì a pochi anni avrebbe decretato che i figli neri dei valorosi combattenti delle guerre coloniali non sarebbero più stati accettati per regio decreto come cittadini italiani nativi sarebbero stati chiamati meticci stranieri ovunque senza patria e senza diritti ma il cittadino non italiano giorgio marincola per la sua italia e per la libertà di tutti gli italiani entra nelle file della resistenza compiendo da subito azioni militari e di mobilitazione politica mobilitazione culminata nello sciopro del 3 maggio del 44 nel giugno 44 a roma giunsero gli alleati la capitale era libera ma giorgio no giorgio volle continuare la lotta finché tutta l'italia la sua non patria fosse stata liberata si fece così paracadutare dagli inglesi fra le colline del biellese dove il tenente partigiano mercurio questo il suo nome di battaglia in uno scontro a fuoco il 5 settembre venne ferito appena in piedi e venne ufficiale di collegamento con il cln alta italia ed è proprio di ritorno da una missione a milano a metà gennaio del 45 che mercurio dovrà nuovamente cambiare nome viene arrestato nelle circostanze frenetiche di un duro rastrellamento e subito tradotto nel carcere del piazzo di biella fu allora che andò in onda in diretta la sua intervista a radio baita una radio repubblichina e nazista nascosta nella famosa casa della tortura villa schneider per cercare di abbassare il morale dei partigiani e della popolazione i conduttori della trasmissione quando riuscivano a prendere un combattente della libertà lo costringevano a rispondere in diretta alle loro gentili domande bene quando toccò a renato marino il falso nome che aveva adottato dopo l'arresto alla domanda perché un italo somalo combatte con gli inglesi marincola rispose sento la patria come una cultura e un sentimento di libertà non come un colore qualsiasi sulla carta geografica la patria non è identificabile con dittature come quella fascista patria significa libertà e giustizia per i popoli del mondo per questo combatto gli oppressori urla rumori fine della trasmissione anche le campane accompagnano questo ricordo il giovane partigiano dalla pelle nera massacrato di botte fu trasferito alle nuove di torino e da lì su al lager di bolzano fu lì che lo raggiunse il 25 aprile racconta un suo compagno fumarino a svegliarmi il 2 maggio nel campo ormai liberato vittorio mi dice non ti sembra ignobile finirla così partimmo la sera stessa su verso il confine un compagno di prigionia ci aveva munito di un biglietto di presentazione per il comandante della brigata battisti operante tra stramenizzo e molina la notte ci colse una bufera di neve per cui ci riparammo in un pagliaio alle prime luci del giorno dopo via verso l'ultima avventura e il quattro mattina siamo assegnati a un posto di blocco la colonna di ss arriva con le bandiere bianche in aria ma a un tratto quelli davanti si buttano a terra ed entrano in azione i mitra dei tedeschi che stanno dietro nessuno di noi è armato proprio per non dare il pretesto a eventuali incidenti ci buttiamo subito verso il bosco ma un sibilo folgorante e marino si schianta al suolo morto per la sua non patria buon 25 aprile a tutti